Ciao sono Anna. Piacere Jack. Sono Veronica. Tony. Clara. Siamo Avatar. Possiamo prestare il tuo volto alla tua azienda e permetterti di realizzare contenuti video professionali e coinvolgenti, senza bisogno di attori, di effettuare riprese e di noleggiare costose attrezzature. Ti starai chiedendo quali tipologie di video possiamo permetterti di realizzare. Provo a farti qualche esempio. Puoi ricorrere ad un avatar per realizzare video di formazione interna per il tuo personale. Video messaggi personalizzati da inviare ai tuoi clienti. Posso comparire all'interno di una presentazione per renderla più dinamica. Oppure posso aiutarti a creare video per il tuo sito, il tuo e-commerce o i tuoi canali social. Puoi scegliere tra oltre 40 avatar standard che puoi far parlare in lingue diverse, a seconda del tuo pubblico di riferimento. In alternativa, possiamo creare un avatar personalizzato, basato sulla tua persona, quella di un collega o di un collaboratore. Che cosa aspetti? Contatta Creatività e realizza subito il tuo primo video.